Ben ritrovati con AgriMag News. Il Ministero della Salute, su domanda specifica di confagricoltura, chiarisce che i residui della sostanza attiva chlorpyrifos riscontrabili negli oli e nelle olive raccolte e prodotti entro il 4 dicembre, ma commercializzati dopo il 5 dicembre, rimane il vecchio limite. Allo stesso modo i limiti massimi dei residui per gli oli prodotti dopo il 5 dicembre da olive raccolte entro il 4 dicembre può essere considerato sempre lo stesso precedente. Pertanto per l'olio d'oliva prodotto con le olive raccolte dal 5 dicembre 2018 in poi si applicheranno i nuovi limiti di 0,05 mg kg. La problematica dei residui del chlorpyrifos rimane drammatica per gli olivicoltori costretti a convivere con i vigneti nelle vicinanze dove molto spesso, seppur con limitazioni, il chlorpyrifos, sostanza attiva liposolubile, è utilizzato.